Grazie a tutti. 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 Ciccio, a due tocchi veloci, vai. Ecco perché Ciccio la macchia e lui è andato centrale. Vai su, Pippo! Allargati, Ciccio! Vai, 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 vai! Cazzo, dai! Vai, Ciccio! Stai largo, Ciccio! No! Guarda, Ciccio! Guarda, Ciccio! Guarda, Ciccio! No. 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 Non l'attaccano mai. No. No. Vai, vai. Bravo. Bravo Pippo. Ciccio. Ciccio. Attacca il secondo palo. Il secondo palo dovevi attaccare. Dai, dai che va bene, dai. Ma se non dovevi volerci... ...attaccherò il gioco. Sì. Quello gioco. Vado. E' un gioco molto veloce questi ragazzi. Sì, bravo. Ci aveva già abitratto. Buon avuto. Oggi delizia. Non è male. Non è male. Non è male. Non è male. Però rispetto agli abitanti di suono è un buon avuto. Buon avuto. Buon avuto. Qualche volta è capito un po' di giovani esperti che favano volare. Ragionala. Ancora. Bravo, sì. Bravo. Mettila giù, uomo. Bravissimo. Gira, gira. Dio Cristo. Anche più esperienza nel lavoro. Come invaderai Donamo. E' un buon avuto. Beh, è un buon avuto. Ho un migliorio. Tipo. Con i giocatori. E' un buon avuto. Tutto. 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 Tutto, tutto. Bravo. 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 Più fai, più sai. Dai, va bene, ragazzi. Questi qua sono una buona squadra. Hanno tre punti finali. Dobbiamo però vincere. Così raggiungiamo. Non c'è almeno perché... Camina inizia. Sì, te lo chiamiamo è gratisico. Quindi spero di cominciare. Perché ho visto che dalla prossima scuola del gruppo non ha ripresa. Stavamo perdendo il gruppo. Stavamo perdendo. No, stavamo perdendo. No, stavamo perdendo. No, sono buono, sono buono. Quando arrivo tra zero, poi vado a ripresa. Esatto. Vado a ripresa. Sì, poi vado a ripresa anche il video. Avete visto poi il quarto guardo? Vado a ripresa. Esatto. Esatto. Vado a ripresa. 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 No, se lo vado a ripresa. Non non si sa bene mai. Vado a ripresa. Vado a ripresa. Vado a ripresa. No, ragazzi, non vogliamo, eh! Il 15-15. Hai ragione? Poi non vettiamo quando il pedale. C'è? Mi chiamano fiducia. Meglio potrezziamo subito il livello. Dai! Non facciamo i giocare! Eh, non facciamo i giocare! Purtroppo gli stai lasciando anticipatore del caso. Dall'attacco, spesso. Ecco, non sei schieno. Dai, dai! Dai, ragazzi, coraggio, eh! Non ci scoraggiamo che siamo all'inizio. Eh! No, abbiamo, ragazzi, campagne. No, no, noi siamo davanti, mi sono utilizzato. Dopo tutto wallace here, ma non vuoirare Hernandez? Guarda! Guarda! Che numero, 10 minuti che vuoi fare? Casa, vieni più centrale sul 7 No, un attaccante Vale, stai lì, dai, vieni più centrale Ho fatto due gol a parte del spesso Sì Due gol a una... Sì, sì, bravo Sei ripreso Cazzo Il problema è che non potrei voler Guarda che video Non è tanto infortuna Ora si sta bene Vieni accorciare Campospedeci Vieni gioco 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 E' quanto è tanto di noi Dai ci 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 ciò Dai... Ecomi E' il palo Lapsa E' il palo E' il palo E' il palo E' il palo Cia Ciao Ciao Ciao, ciao, ciao. Allora? Allora? Chi ha segnato? Calma, calma! Calma! Non schiacciare lì! Cambio del giocato esterno. Senza palla, senza palla, accompagnalo! Nostra! Andiamo, andiamo, andiamo! Sono bella, bella! Ciao, Donny! Attenzione! Guarda che bella, sul secondo, Dio madonna! Buona, buona! Dai! Vai! Stai su, guardia! Grazie, Andri! Bene, stea su, invasive. Vimpo, sincilla! Vimpo, un passo! No! Buono! Dai, resisti, dai! Sì! Non ho capito! Mè! Beh! Beh! Miитесьco! Non muore! Dopo riformiamo troppo prima, secondo un tempo a tre di fine, eh? Devevo andare... Eh, adesso ti guardiamo tanto. Beh, che bello! Toccagliela! non so bene ma non è che marco non so bene perché fuma non so bene Tanto l'aria c'è il finale. Esatto, peggio forse. Non è un problema c'è, è peggio. Pugniamo il canno, no? Si sta guardando! Pedestra, pedestra, alle, alle! Ciao Vittuardo! Nostra! 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 Calma! 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 Calma, calma, vieni più in mezzo, casa! Dai ragazzi, dai ragazzi! C'è Alberto! Calma, uomo che arriva! Dai, dai, dai lì in mezzo, dai! Ce l'hai dietro, ce l'hai dietro! A due, a terzino, beh, sfidami! Se hai avversario è bene! Ciao, buona giornata, buona giornata! Buona giornata, buona giornata! Buona giornata, buona giornata! Buona giornata, buona giornata, buona giornata! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Dai, su, ragazzi! Calma, calma, calma! Sì! Bella, bella, che gol che ha fatto, che gol che ha fatto, brava, brava Sveglia, sveglia, sveglia Dai ragazzi, coraggio, rimontiamo come abbiamo fatto domenica scorsa Dai ragazzi, crediamoci, rimontiamo come la volta scorsa Sì, vero Dai sveglia Leone Mettila giù Dai Spingi, spingi, spingi Sveglia Io ci credo ugualmente, Fede Se non farà rimontare e vincere 18 Sveglia Vero Fede, eh? Bene Bravissimo, Fede qua è tutto mandato aperto Guarda Fede, guarda Fede Sveglia 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 Dai, iniziamo a segnalati Sveglia 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 Si le aveva presi a mano Palla Adesso dobbiamo ingrenare ad un'azzo Dobbiamo ingrenare Stai lì, stai lì che fuori gioco. Oh, c'è la manca, guarda la linea. È buona, è buona, è buona. Va bene, va bene Jacopo. Dai ragazzi, cerchiamo di terra di più. Non c'è d'ambito, sì. Devo mancare più azioni. Stai fischi! Non capisco che c'è lì, ma è sbagliato, è la data lì. Va bene, dai, continuiamo a tirare. Non c'è lì, non c'è lì. Non teniamo a tirare, dai. È che è un gigante questo portiere, con altezza aiuta. Non per forza. No, è vero. Ah, dici... Eh, non so, sai. Anche secondo me è molto veloce. Gira! Guardi, quello che ho detto del portiere abbrassabile, che l'altezza aiuta, poi non è detto. Magari è più debito. Non so se... Magari può essere basso, perché è fortissimo, come è alto e scarsissimo. è troppo corto. Un gioco! Un gioco! Un gioco è il gioco! Un gioco! Un gioco! Un gioco! Un gioco! taglia dentro no, sempre dai tu le panchine erano qua ah si le panchine erano qua e io l'ultimo partito l'ho visto no è vero ma le panchine c'ha ragione in terra battuta le panchine erano qua è vero, è vero era l'interno con la bolla a 5 a 4 e le panchina a 4 anche con l'apparenza testa allora siamo al 22esimo e stiamo perdendo purtroppo 2 a 0 adesso speriamo di recuperare forza lei andiamo andiamo nel suo gruppo leone così sarà qui ma che bella non sanno quanto siamo bravo Lucia bravo faioles giusto, giusto si 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 una volta cambiamo il tempo dovrei far provare questo uccisi anche da tu scusa mamma 10 allora come stai? non ci vedi Franco girati sono una volta nel più tempo non adesso prendere i gol e poi non vincere dai forza non cercherò di vincere bella 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 dai 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 la mano! Ehi! Dai dai! Dai ragazzi! Sì! Sveglia! Dai, esce! Non capisco, non capisco Non capisco Alex, incontro la mano! Via! Dai, oh! Non capisco Non capisco perché non stiamo giocando Non capisco Non abbiamo ancora iniziato a bloccare Non sufficientemente O camminiamo dopo Fuori! No, ok, ma a me non lo bisogna farlo Secondo me Poi diventa difficile Fanno tre in un secondo tempo Possiamo farlo Vai di là, Fede, vai di là All'arcazi! All'acqua! I miei progli scorsi sono più forti Oh! Sveggi sta calza di fascia Ciccio, sveggi 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 Vai, vai! Pallo di ma... Forse è più vero Poi da più farlo Poi da più farlo Oh, ma diamo dai nostri eh! Unicamente Deve essere più forti Noi dobbiamo stare Oh! Calma! Calma! Un'altra squadra Una squadra veloce Su un campo piccolo E anche lui Si Che credevo molto... Ti credevo meno forte Quindi Facciamo Dai raga! Ora mi devo cambiare un attimo Forza ragazzi, segniamo questo gol Torna Vale, torna Gioca Forza Non ci siamo Perchè non riusciamo, dai, un gol bisogna fare per il tempo E poi due ne facciamo la seconda Sì, forse il secondo riesce Il secondo non lo sape che era meglio L'idea della presenza Sì, forse non poteva a sinistra Forse il primo gol uccide Sì, però certo Quello che mi aveva stile, che non si è sbucciato Ma sul secondo non serve No, sul primo non serve Non mi sento di dire che ho basso adesso Un gol fortissimo E dire la difesa che potrà Non c'è il mano al giù Il primo gol era difensivo Sì, è stato bravo Dai, viole Pallucinare Vai il pallonetto di prima di sinistro Sì, ha fatto una cosa molto tecnica Per il tiro ai piedi La punizione Dove dire? Raccè, noi siamo bravi Raccè, noi siamo bravi Perchè non vogliamo stiamo Dai, 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 ragazzi Dai Dai Vabbè la tiraglia è bassa La tiraglia è bassa Poi si può tiraglia A bassa è la pute Fuori, fuori, fuori Noi, no, vai, vai, gioco Vengono voluti giocare con un uomo da me e non c'era il bello. Vengono concentrati! Mi ha fatto bene, non mi aveva mai lamentato. Mi ha fatto bene, non mi aveva mai lamentato. Non ci posso credere! Mamma mia! Non abbiamo ancora iniziato a giocare ragazzi, dai! Fuori quell'uomo e giochiamo, su! Che cazzo ride quella lì! Non mi ha mai perso! Non ho capito! Oggi, guarda, mi sono un po' girato! Tira, bravo! Bello! Bello! Beh sì, ci potevamo messi per te. Vabbè, adesso non puoi. Se non ci svegliamo, ne prendiamo altri ruoli. Poi, adesso siamo in tanti bravi per te. Se non ci svegliamo, non ci svegliamo. Prendiamo un po' di finale, adesso non c'è il resto. Bello! Come? L'ho messo. Non è fuga niente, non è fuga niente, vero? Hai visto che non mi ha fuga niente? Hai visto che è lì? Sì, vado, se no, se no, se no, se no, se no, se no, se no... Non è fuga niente con il fumo, proprio qui c'è un fumo. Dai, ragà, dai! Ti immagini, arrivi dietro. Bella! Ero, sì, non bella è sufficiente. Gli scuola bianco, come fai che ti morire da un portiere alto? Tirei a basso, è forte, tiriamo, tiriamo. Allora contro le due, nessuno dovrebbe tirare. Perché hai buttato via così? Giochiamola raga, giochiamola dai! Se fosse così, nessuno tirerebbe a Mino perché è un portiere gigante. Acqua, 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 pochino, pochino. Dov'è? Acqua, 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 lì è l'acqua, in zona acqua. Quando fai il tuo dovere... In zona acqua lì. Ciao Gigi. Ciao Gigi. Allora? Ciao Gigi. Allargati, mamma. Siamo sotto di due. Vedi che si allarga. Bravo! Nooo, là dove metterlo! Non si riusciano a me, non si riusciano. Che delano, non si riusciano. Ma due che ha messo a torre. Ha fatto un gol... Ma perché vediamo si riusciano? Finizione dal quale centrocampo ha preso il gol, non si riusciano. Nel pochino dal quale centrocampo ha preso il gol. Non si riusciano a preso il gol. Ma poi un altro, eh? Che del salino non devi pagare quando fai fuori. Urla un po'. Tu vieni sempre se vuoi, devo... Un po' poi potete anche lui. Se mi guarda lì. Allora, svegliamoci, però, eh? Dai! Dai! in zona pochino no no, è stato detto il buono, in zona pochino una no, no quando sei su, è proprio un bello pochino non so come è il terramoto, è in zona gialla è in zona rosa, è in zona gialla le hanno date due strigliate in due settimane anche l'azzarro se non dici scusa, non ci puoi com'è, la pancetta non c'è nulla, non c'è nulla dai, dai, dai no, dai, vai dai, dai dai, dai dai, dai ancora non scommetto però, adesso non scommetto Prendiamo! No! Eh ragazzi, però... L'undici ciccio, l'undici ciccio, Tiello! L'undici ciccio! Perché sono così maldi? Giù, giù, giù sta palla! Vieni, vieni, lo manda! Aiutalo, aiutalo! Bravo, dai! Bravo, bravo! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Non c'è la pò! Non c'è la pò! Non c'è la pò! Ciao, Marco! Vieni! 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 Aspetta che arriva! Vai! Ciao, Massa! Ti scrivo per quella roba lì? Del torneo? E lo sentito! E lo sentito! Non c'è la pò! Non c'è la pò! E' un'altra pò! E' un'altra pò! E' un'altra pò! E' un'altra pò! Non c'è la pò! Non c'è la pò! Non c'è la pò! Non c'è la pò! Quante ne manca le azioni? Quattro di attacco! Non c'è la pò! Quattro o cinque, non di più! Guarda quante ne hanno creato! Non decine! Non c'è la pò! Non c'è la pò! Non c'è la pò! Noi avevamo creato quattro azioni! Noi avevamo creato quattro azioni! Non c'è la pò! Non mi stupisce il risultato! Sveglia! Spupisce il fatto che non siamo ancora giocare! Quello sì! Ma non ci sparpagliate! Non sparpagliati! Farpagliate! Non mi sento nessuno neanche chi... prendilo 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 la palla arriva, lui lo può prendere te ne ho scrivono? no 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 no, lo stavo scherzando qui assolutamente no, non se ne parla mi levo io mi levo io no no no, stai facendo che ti rimettiamo dentro ti metto dentro e non ti scrivo, non usci sempre al gruppo chi sei? io mi levo io mi levo è venuto Alessandro, ciao arrivo se mi segna mai in giù ti ci prendo una sera con Pietro la sera te la porto a capo, devi facciare la cena di Natale a casa tua con Pietro la 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 non si fa, non si fa di Natale a casa mia ho stessi in fama senza Pietro quando tu manca fino a primo tempo Tommy sette minuti no, otto minuti l'aprile scorsa abbiamo iniziato a primo tempo 3-0 per l'uno mi ha capito mi dovrebbe iniziare a segnare così è successo che hanno fatto 2-0 poi 3-0 l'hanno fatto nel secondo tempo e poi andavamo a pari gioco per il pari comunque è soddisfatto che l'hanno fatto 3-0 per il pari in 30 minuti però non tutte le ballizzazioni sono vanti quindi dobbiamo giocare bene subito non capisco perché non stiamo giocando bene quindi Giochiamo come il secondo tempo della volta scorsa ma daranno 102 gol, senza un tempo io giocando Lascia lì, lascia lì. Sto a metto un palla lontana, vado tu. Puoi anche munirlo, eh. Puoi anche munirlo, eh. La palla è già andata. Se la munisci non ce la è scampalizzata. Puoi anche munire. Un palla lontana che ha fatto lo scampetto. E' che gol, eh. Bella Ale, bella! Nooo! Non era fuori gioco. Vedi il reply. Vedi se sei fuori gioco. Eh, come fai a vedere? Dai, dai! Eh, devo rivedermelo dopo. Devi fare il video dei Reitz, tutto. Eh, comunque qualche volta lo perdono. Sì. Se la qualche volta sbagliano fuori gioco. Se no qualche gol era ok. Ma non per cattivera, sono lì senza guardarini. Non per cattivera, niente. Vabbè! Non per cattivera. Non per cattivera. Non per cattivera, non per cattivera. Sì, cioè... Sì, cioè... È difficile quando c'è il 5 alle 5... È la terra raga! Buona terra, arriva! È proprio sbagliato per il reaffo, guardate cosa? È proprio sbagliato, non per salire! Noi non stiamo giocando. Noi non capisco perché. Sveglia, ragà! No, è buona. Ce l'avete scatto con te ne vanno qui. Caccio! Dai, ragà, dai! E' bravo questa bottiglia, però... Non c'è mai potenza, non c'è niente giocando. Ragà, lo capisco più! Che fregata che ti ha fatto! Oh, tiro uscita! Ora è il 9, fuori giocco! Fuori giocco, arbitro! Fuori giocco! È buona, è buona! L'ho visto io, cazzo! Lo stavo guardando! No, stai dai! No. Non c'è! No! Non c'è da un monto. Non c'è da un monto. No! Nooo! Quando è che gioca l'Inter? Stasera. L'Inter fa sera. Con Genoa? Sì. Cazzo è brutta eh. Genoa è forte. Ha battuto noi la Juve. In forma eh. In Genoa è una squadra in forma. Eh lo so. Anche me preoccupa Genoa. Però fiducia che... Devo avere fiducia che devo fare. Non è così brutto per me. Se sei fortuna di abito si spende la partita. Dai raga dai! Sì sì. Devo chiedere il primo tempo almeno con un gol. No. Allora è bella. Bravo Chico. Questa cosa è bella. Finalmente hanno fatto un bel tiro. per il sentito. Adesso dopo E quanto ho letto il gruppo maniolo? Hai visto cosa è successo? Se l'hai fatto la chiusa? No! Guarda! Che mamma va bene? Arriva! Dai la va! No, hai fatto un giro! Chi c'è Ragusa? Chi c'è Ragusa? Chi c'è Ragusa? Ragusotto, devi dire Forza Leone! Forza Leone! Stiamo perdendo da zero oggi con la squadra! Dai, incoraggia anche tutti! Vai Ragusa! Ragazzi! Allora! Vai, vai, presto! Che sono la dimmerda che gli ha dato! Eh! Unc'è che stocca l'altro! Gioca fuori, ragazzi! Se fai con gli stocchi! Eh! Che c'era! Vabbè! Eh! Vabbè! Gioca fuori! Gioca fuori! Gioca fuori! Gioca fuori! Gioca fuori! cliche Chanel. Gioca fuori! Gioca fuori! Gioca fuori! Gioca fuori! Gioca fuori! Gioca su casa. Gioca, Franca fuori scaredin Go, go, mani! E poi, arbitro! Go, arbitro! Non so le guarda, le guarda, le guarda! No, al cartel. L'arbitro così andiamo a fumare! L'arbitro così andiamo a fumare! Dovemmo fare le 3 afili, Noi fai tre punti. Tre punti, tre gomme. Tre possano perdere. Quello che fa il messaggio a Terri del Neone, il padre è crescere? Sì, sì, sì. Che cosa sta? Seminare il ribaltare come settimana scorsa. Stanno, è il padre in pace. È vero, sì. Ci sta però. Se inizia il tarino sulla Juve, è bene. Ciao Pippo. Eh, stiamo perdendo 2-0. Adesso è appena iniziato il secondo tempo. Eh, in pratica... Eh, stiamo creando poche azioni. Stiamo lasciando motiviare gli altri. Occhio, raga! Eh... Il primo gol è un errore difensivo. Stai a mezzo a me! Ragazzi, l'ha toccata la palla però! Albitro, l'ha toccata la palla! È un po' sì. Quando tocca la palla può andare il giocatore. Dai, le regole cazzo! Svegliati! Esatto, stiamo giocando 2-3, esattamente. Sei di seconda, che la chiamata di seconda... Se la tocca il secondo può andare. Infatti non me lo spiego neanch'io, non capisco perché non riusciamo a... Siamo in casa, sì. Siamo in casa, sì. Speriamo di sbloccarsi un attimo. Sì, siamo in casa, sì. Speriamo di sbloccarsi un attimo. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Spoglione, albitro! Il cazzo in secco. Il giocatore in secco. Non cazzo. Lo scommesso. Questo è terreno. Sì. No, no. Buona! Perché cambiava il risultato.... Scompombo e cambiava io! Il giocatore non c'è stato il ruolo. Stiamo perdendo tra zero. Coraggio, ci la possiamo fare. Oh, tranquilli, dai. Gioca la palla, adesso. Allora diventa molto difficile. Ora è persa. No, è persa no, perché possiamo ancora lo dichiarare come fai. Lui è furibolo. Siccome l'anno scorso non mi ha pagato una trentina di pizze. Sì. Tra i giocatori di promozione non so che cazzo succede. Eman, non c'è me la sospedale. Esatto, diciamo. Un gol non è 10 minuti, vincere ne fai. Ce l'hai, ce l'hai. Tira! No, dai, no! Guarda una pazzetta di valigio. Fuori gioco l'azione subito, dal tiro. Sì, c'era prima. Sì, cazzo, 1-1, vaffanma. E c'era una fanta cazza, se lo dè. Buongiorno. Un interno per il Torino, poi, va bene. Eh, ma... Ma è l'obbio che sei inizialmente adesso. Fuori! 1-1, l'aiuto. Bravo, guarda lì. A 1-1, l'aiuto. Sono a Torino, sono... Ah, gioco in un altro. Eh, l'erba è lì. Toro! 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 Bravissimo! Gioca in casa a Torino? Prendi la larga, giochiamo! La qualità c'è, non capisco perché... Guarda, è nato! Devemmo fare degli schemi, gioco, qualcosa... Non abbiamo un gioco, non c'è... Non lo so poi ha detto... Non lo so poi ha detto, come noi non stiamo vincendo, non stiamo comunque lottando per questo... Mi ha chiamato Filippo... Eh, la mamma! No, ha fatto il 1-7. E' un ragazzo che ti ha toccato a me. Gallo! 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 Seguissima, come lo sapete? Chi è Belotti! Mi ha chiamato, mi ha chiamato e ha detto, ma come mai ha detto... Sì, ci sono i nostri trattanti migliori... Guarda qua, Teo! Via! Sta cazzo, è bravo! Sarà anche forte, ma noi stiamo proprio giocando... Ho capito però, cioè... Non riusciamo ad attaccare, non riusciamo a fare niente... Ma stiamo giocando male anche noi... Sarà anche forte... E' un pericolo, quando sei bravo... No, in cui passiamo la palla... Ed è pericolo è tutto... Quando sei bravo... Non ce la fa, non ce la fa... E' dappure, ha fatto! No.... C'è bravo... E' un paio di farci, eh? Un mese di sospensione... Non hai capito, poi E' un paio di farci... Grandi naga! Poi le vane. Il dottobre l'informe ti fa tagliare i capelli. Eccola la! E la classica è la tisso. Mi deve studiare la telecamere. Grandi! Alexei! Mi vuole un po' capelli. C'è un po' lì? C'è un senso di ritendere più alta. No, sto scherzando. Hai visto che è questo? Anche Maldini. Chi è che entra? Anche Maldini. Ma anche Zaletto. Come si chiama quello livelloso? Eh, aspetta. Ah, Ramella. C'è un po' lì? E' un po' lì? E' un po' che stava giocando bene. Che cazzo lo toglie? E vuole spingere più sull'attacco, credo. E' un po' lì? Ero il vestimento per spingere sull'attacco. Eccolo! Noi ripolliamo il farlo, енных in giro. Nel senso, vuole mettere un'attencata in giro? Non pare,rico... Per questo è meglio. bella è meglio. Fa, fa, fa. Ma la crociata non la prendeva a fare. Si, si. Capito. Buona tecnica. A se stessa. Ho già visto lì sulla fascia di là. No, bravo, bravo. Ma ne è ancora un 100% secondo me. Eh, ma... Sveglia, raga, sveglia, dai! Ale, prova la giopetta di prima, no? Allora, stavo ci stiamo tranquillo quando si chiude la partita. A Pettucet. Dai, 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 raga, dai! Non si può dire la partita, non si è trancato. Dai, dai, dai. Stiamo a giocare un po'. Dai, tranquillo, poco. Si ciò, si ciò! A Stefano. Non fare rigore. No, no, no. Era gol, qua. Siamo anche fuori da questo sì. No, no, no! Una partita da Tastò. Stefano, Temporezzo! Siamo a levare all'oro. Non è anche sportinico. Questa qua è la gol. È anche soppardo, no? È bella azione questa. Eh sì. Meno male, è una, veramente. Stiamo iniziando a giocare. La prima parte. Dai, raga, dai, svegliamoci. Sì, speriamo, speriamo. Siamo che nell'ultima mezz'ora giochiamo meglio ai tutti. Nell'ultima mezz'ora giochiamo meglio ai tutti. Giù, Marco. Attento! Il tempo c'è per vincere ancora? Non c'è mai, non c'è mai. È meglio per reggere. Albitro! Per fare il gioco di due metri, Parcatraia. Svegliati! Già, mi stai a tenere. Questa volta no. Dai, dai, dai! Vai dietro a zero, dai, ragazzi! Oh, battaglia! E adesso, con mezz'ora, vado. Sì, sì. Adesso, con mezz'ora, vado. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Non è, vado. Allora, vado. L'abbiamo pure fuori scadola, vado recuperato tre. Nooo! Non tutte le guardate sono male. Mi piacerebbe essere sicuro. Sì, sì, sì. Se nemmeno ci hanno più mandare promozione, se nemmeno. Sì, sì, sì. 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 Si cominciano ad essere aggressivi Fuori gioco Su Vabbè Ancora 5 minuti Eh va che non è finita Dai iniziamo a segnare Dai ragazzi Aggressivi come prima Su 33 Dai che botta bene Dai dai Vabbè Vabbè Via Vabbè Dai vabbè Fuori È buona Brava 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 Sveglia Grazie Non fa mia notte No Solo eri Dai Detta Pallo Vabbè Ammate Vabbè 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 Stanno mettendo in difficoltà Vabbè Vabbè Prima la fase Vabbè Prima la fase Pessi Aure Vabbè Tommy Vabbè Vediamoci tutti Dai Bravo 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 Dio 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 Bene, dai. Bene, dai. Arrivai, dai in mezzo! Arriva! Arriva, guadagnati! Arriva, guadagnati! Allora, guardiamoci che si può ancora fare. Allora, scala, scala! Fallo, Albi! E fallo! Svegliati, coglioni! Dai, questo è regalato, però! E tira, Cristo! Allora! Sì. E' un vergogno! Albi, altri, altri! Albi, altri! Sei un coglione! Avere! Un fallonetto come una casa prima del gol, svegliati! È la falla! È la falla! Vi farò bene, lei! Non so, non so, non so... Non so, non so... Non so, non so... Non so, non so... Ma non so... Bravo Albitro! Complimenti! Sono coglioni! Questo è il vittoria e il pareggio che erano da giocare. Poi c'è l'ultimo 0-0. Ah, veramente, l'ultimo 0-0. C'è cosa evidenti? L'ultimo 0-0 è finita l'altro, adesso è finita. Non voglio voglia tirare, ma è finita. Cosa evidenti? Era 0-0. La facciamo un gol nel 5-1. Pia, Pia! 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 Chi ha presa la Monza? Un bel anno? Chi l'ha presa, l'ha presa. Sì, perché? Chi l'ha presa? Perché non interamente ti dà con la manà tua. Eh, ma in volontà non è che farla di ammunizione però? Eh, ma questo avvetto posto e avvetto non male. Ha lanciato via la palla a galla. Ha gallo, ha gallo! Ha gallo, ha munito. Ha ballo da gallo. Ha lanciato via l'altra! Ha lanciato via l'altra! Quello non serve, eh. Sì, vabbè, ma vabbè, al final di scuola. Quella deve fare, non ci dì la stessa. La macchina, la macchina! Boom! Sono forti la carrozzetta. Oh, abbassa un po' Ricci! Vai Olet! Vai Olet! Vai Olet! Oh, mi metta notte il cazzo! Vieni a lei! 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 Oh, abbassato quel ritmo! Tranquillo! 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 Spezza il ritmo! Teoricamente è buono. Bravo, bravo! C'era, c'era, c'era! Non pareggi neanche con il gioco che stiamo facendo. Siamo nervosi adesso. Qualche cosa dobbiamo farlo adesso. Non può finire 4-0. Ma sono tutti nervosi. Stanno agitando e basta. Dai, non stanno avendo neanche un gioco. Ammetto che sia una squadra forte. Ma guarda che 4-0 non va bene. Ti fai toccare quel gioco. Porca di quella borsa! No, qua non... Perché come abbiamo giocato non va bene. Cioè, se giochiamo bene, perdiamo come è contro la Calibaldina. Ma va bene. Questo 4-4. Esatto. Sì, sì, perché... Quando gli avessi come è giocato pieno... Si sente certo. Si sente certo, ma... Non vuoi essere anche intelligenti a giocare. Certo, se nemmeno non sono fatti male. Ci sarebbe... Io, grazie. E' più buono. Certo, è buono! Vai, figlio! Vai! Vai, figlio! Oh, è! Ehi! No! Ho fatto la Bloc Padorea! No, l'ho fatta la Bloc Padorea! No, ho fatto la Bloc Padorea! Però è solo uno. Ci hanno fatto un giro in porta, hanno fatto un gol. No, perché erano stati forti, quello che avevo detto. Sono cagati! Veloci! Grande, grande, nico! Ah, ok. No, perché ho detto, così forti non sarebbe giusto solo con te. Ma vedi che sinceramente non siamo messi. Siamo ok, diciamo, però non siamo sicuramente... Avete visto, avete perso solo con la boffa all'orese. Sì. Perché le altre, ho visto, guardate l'altro. No, ma... Tanti bel reggio, anche noi abbiamo chiesto quello di punta. Sì. Provala! Aspettiamo, montiamo le proprie. Aspettiamo troppo, raga, dai! Come dire la verità, la squadra vince, vince il campionato. Vuoi sì? Su! Noi non siamo. Vuoi sì, secondo me siete anche più forti. Sì, ma totalmente volontario. E' il nostro... 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 Che moglie però giove? Allora, la mia prendita! Siete una squadra giovane voi? Siete una squadra giovane? Sì, mista dai! Sì, sì, sì... Ma è corretto molto veloce. C'è... C'è qualche vecchiarello c'è, però... Beh, qualche vecchiarello... Abbastanza giovane. Abbastanza giovane. Abbastanza giovane. C'è quello che ha fatto i due gol sul punizio, ma che arriva da un'eccellenza? Ha giocato in alte? Giocava in una squadra. Dove ha giocato? Alla vecchietà è stato... Ah ok, ma dove giocava in un'eccellenza? Non so dove, però ho giocato sul posto. Ci ha tirato un po'. Ah ok, certo. Si vede che ha tecnica, quello che io riconosco solo. Qua c'è il cellulare, hai capito che hai po' che... Dieci ho giocato in Serie C, però da giovane. I fratelli, no? Il nove, sì. Poi ci abbiamo due spassati. La macchina, sì. Esatto. Con 130 euro all'anno, c'è il 10 giga al mese. E noi stiamo... Sono un po' in costruzione noi. Ci sono avanti molti giocatori forti. Quindi abbiamo cambiato il misto questo anno. Stiamo un po' costruendo la squadra. Perché prima... Per aver perso solo una partita in Italia... Esatto. Abbiamo avuto un buon play-down per un visto precedente. Perché ci sono stati un po' di distingue. Adesso siamo ok come gruppo, ma... Dobbiamo migliorare... Come hai visto... No, no, no. Ci sono stati un po' di distingue. No, no. Poi oggi abbiamo giocato male, sinceramente... L'undici mi sembra uno buono. Sì, sì, no. Giusto, è vero. È vero, è vero. No, no. A noi ci manca il nostro centrale difensivo. Facciale, dai! Troppo. Stiamo giocando ora insieme. Anche se oggi stiamo giocando piuttosto male. Sì. Vuoi bene, no? Stiamo giocando noi. Per perdere ci stiamo così tanto. Perché mi fa giocare un po' a filo tanto? Quattro a zero non ti mancano. La squadra forte è anche la garibaldina. Si, si. Si sta perdendo una a zero. O la 1. La 1, sì. Abbiamo pareggiato. Va bene, va bene. La prossima c'è un viaggio. Prima di ritorno. Ah, ok, dai. Contro i primi? No, sì. Contro i secondi, sì. Garibaldino. Loro sono davvero forti. Loro e Buffalorese, anche voi. Mandole in faccia! Questo qua sono le tre squadre tutti. Secondo me queste sono le tre squadre che possono avvenire. Sì. Buffalorese, Garibaldino e voi. Anche se voi siete un buon indietro. Sì. 13 punti. 13. Beh, playoff e l'altro. Playoff e l'altro. Playoff e gli siete. Come magari riuscite a vincere la playoff e arrivare in prima. Se giocate così, poi non so è difficile. Poi, in questo mondo si cosa dire. Speriamo di arrivare qui. Quest'anno vogliamo arrivare. No, portiere. Meno male. Meno male. Meno male. Oh, adesso abbiamo calato. Oh. L'intensità mentali siamo calati. Abbiamo già quattro palle di gol a fare. Ci sta su 4-0. Avete fatto quattro palle di gol? Meno male. C'è un calo mentale e ci sta. Ci sta su 4-0. Ci sta a farle. Però bisogna buttarne dentro a me o due. Questa è una storia. Bravo! Siamo da grande, ma che ha visto Napoli che ha vinto il gol. E dietro. Ci costa. E dietro. Siamo dietro che vuoi vincere. E giusto, dai. Vai Teo, vai il mezzo! Teo! Tass! Tass! Non dico molto, però non 4-0. Abbiamo vinto 4-0 contro la Marca Allesa. Ah? In casa. No, no. Buona partita. Quello è molto bello. Certo. Abbiamo perso il calo dalla Baffalorese, perché loro sono davvero forti. Come voglia. Oh! Oh! Fortissimo. Fortissimo. Almeno 7-0 secondo me. Come livello. Con la Baffalorese? Sì. Secondo me siamo più forti. Abbiamo perso 1-0 in casa. Bastante più forti. Sì, ma abbiamo giocato, forse una di quelle partite che abbiamo giocato veramente forte. Eh no, certo. E poi... Per prendere un solo quadro. Il tiro ce l'hanno fatto. Sì. Eh, loro... Se non mollano vinto. Sì. 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 Gli arriva al dirà anche. Qua sono tre. Come dicevo, quelle tre sono quelle che si possono giocare. Sì. 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 È una buona squadra, è una buona squadra. È una buona squadra, è una bella squadra. Questo è il primo gioco. Sì. Lo saperemo anche noi, non è che abbiamo buttato la scena? Se passate in prima, arrivate al minimo a metà. Si sostengono, anche questa ragione come prima, al primo gioco. No, esatto. Questo gioco è più il gioco del suo gioco. Sì, in prima si gioca. Ci dimenti? Ci dimenti? Sì, arrivate al buon metà, il primo anno. Poi magari fate qualche innesto e non so... Comunque, non sbagliamo quanto abbiamo giocato due anni in ferie, è sempre un'azione. Allora, Avvocato, come la vedi? Mi dispiace. È forte. Va bene, non le finiscono. Sali, sali, sali! Salta, salta prima! Chi? Io? Ma chi? No, quando li fanno a me, no! No, qui, è l'ediro! Brava! Bravo! Merditi! Sì! Non c'entro. Non c'entro. E voi l'anno scorso l'avevo sempre un secondo. Eh, perché? Che fortuna. Peccato. Comunque senza una squadra, secondo me, è infrontata sulla prima. Va bene, Andrea. Va bene, sei bomber, però è vero. Eh, vostro bomber si vede che esperienza. Ma perché non fa giocare Filippo un po'? Ma sento, che cazzo cavolo. Che puttana. Sembra pressione. È bene, è tosta. Ancora tre anni? Ah, mi hai fatto. Perché da sette anni ancora un po'? Ancora più dei sbarbatti? Ma no, figurati. Poi in queste categorie puoi giocare un po'? Sì, sì, figurati. Finché non è voglia, se la senta. Esci, esci. Non lo so. Non lo so. Avuto Perù. Com'era bello per noi. Porca vacca! No, che sicuro. Sì, comunque nel bloccato del genere è modo. Ma meno un gol lo facciamo. Ma chi se ne frega! è meglio che subito 5 a 0 ma che cazzo non mi frega ormai possono prenderne anche 10 io metterei dentro per far giocare gli altri praticamente non ha senso teo pieni scusa ogni tanto i falli inutili si sa veramente di quelle zappolate ogni tanto il calcio noi abbiamo quello del Milano abbiamo Romagnoli che non fa un fallo neanche a pagarlo ha fatto 7 partite 7 partite di fila senza fare un fallo buon per voi io sono intervista invece lo sto mirando per andare in barcata è bravo è bravo stavo la scorsa partita la dimenticare c'è un po' del mestre ce l'ha devo mangiare ancora un po' di pasta su esatto però per il ragazzo promettiamo no, speriamo se il milanista sono come lui è proprio obiettivo esci, esci, esci esci, salta ancora sportivo anche il vostro Romagnoli è migliorato molto no, no, infatti è migliorato il mondo prima valeva poco adesso è buono in cui è letta quello lì è migliorato anche lui è alto ma è bravo secondo me è bravo sì, come il nostro Miranda Timo, voglio far segnare Alex o no? va bene che noi abbiamo un portiere pure che è bravo non ha rumma, sì, bravissimo è il secondo in Italia dopo Buffon cioè, non so se hai visto quando contro la Juve avevamo tirato a due metri e vanno a rumma la parata sì, sì, me la son vista quella, me la partita dovrà parare a tutte le parti è giovane vedrà che poi diventerà lui ma io vediamo poi quello lì diventerà come è abbiato secondo me è anche meglio direi come Buffon bravo, Teo secondo me è un progetto bene voglio diventare ancora più forte meglio, Spano sì, sì cosa hai detto, picchi? hai visto quanti compagnoli che gli portano più beffino è giusto finalmente non è un giocatore apprezzato amare e non è solo la sorta tanto comunque questo soldi sta dipendendo anche da noi ma secondo me tutto questo merito beh sì, come sta giocando è gioco però è bravo sì, anche secondo me l'anno scorso è quello, torno indietro sì, sì, adesso non so quanto però secondo me sì questo si doveva fare ancora un anno di primavera però non ha giocato è perfetto cioè quando è un anno di primavera poi gioca bene il primavera bravo bravo Spano bravo sai, devi avere dei giocatori forti in panchina sennò dopo ti trovi delle difficoltà quindi sicuramente sì che sono forti come in tutte le squadre di SRA bravo 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 quanti anni hai in questo 9? 10 bravo 9 ed è... gravo è anche il 10 ed è l'89 10 bravo 10 10 10 10 no, mi ha chiesto un 9, scusami, un 93 il 9 è il 93? sì sì, scusami, ho capito il 10 9, bravo 10 un 89 89, 89 sì Matteo, 89 sì invece è il 93 e il 9 è giovane ma ha giocato un primo gioco è la prima categoria è la prima categoria sì invece il nostro 10 è giocato un 16 da qualche anno fa però adesso niente si vede il tocco e ce l'hai guardato adesso stiamo appena infortunato non è ancora al 100% non è ancora al 100% si sta riprendendo si sta ancora riprendendo ma come mai gioca perché c'erano gli amici qua giocano tutti amici per questo sì tutti quanti hanno fatto la scuola di un 12esimo ci sono il nostro 8 e il nostro 10 che si conoscono quando sono nati si hanno sempre giocato insieme anche il nostro 8 è forte sì sì è forte adesso magari è uscito non l'ho visto è uscito è uscito ma ha già fatto i tre cambi no? sì sì due tre eccetera log paone 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 spano paone 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 non po no non vuoi uscire a non farla con la partita se no frega come sta andando alla gina potremmo prendere altre 3 come meglio io ne so La partita sembrava venire da noi. Bravo Pedro, bravo Pedro. Adolto, ma buttalo fuori! Abbiamo anche il vostro quartiere. Non puoi sbagliare niente. C'è parata da noi. No, qualche volta. La sera sono quasi tutti. Non lo so, sai? È anche vero che l'ora non ha una bella dispesa. Ma che cazzo del mondo può? Ma perché si arrabbia? Si arrabbia, si arrabbia. E' sempre sul pezzo. Tutti gli uomini c'erano 50 anni. Ma lui è così. Anche se non aveva gravato uno. No. No. Non l'ho detto. Adolto. 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 Sì. Padri 다른 giù. È un po Bernardino con questo partito, per nuovo. Fra mio. Sia, la faccia. Il bisogno deve spazzolare. Guarda, che va! Non ci sono pasi! Nino le metiamo lì! Non bene! No! Non c'è la parola! Non c'è la parola! Non c'è la parola! Non c'è la parola! Noi sono in base! Non è vero! E adesso poi veniva buon errore, la spandessa era un po' difficile! Non è vero! Non è vero! Sì! Sì! Noi sono in base! Cosa devo scommettere? Tu tieni... No, io non tengo niente! Ma cosa dobbiamo scommettere? Il bagattino! Dimmi, quando andiamo a Balanzate mi offri un bagattino e finiamola là! Vieni! Bellissimo! Vieni! 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 Sì! Sì! Solo! Solo solo! Vieni là, vieni là! Pallecchia un po'! Puoi anche peschiare. Ale non devi partecipare, Ale! No, manca cinque minuti. Bella squadra! Oggi! No, facciamo un godo. Bella squadra! Vieni, vieni! Vieni! I suoi ci sono! Tu te rispettasci! Giacomo! Fuori! 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 I Break, Fuori! No, no! Io ho male e devo lavorare. Ho c'è! L'appannamento! E' la seconda botta che mi ha colpito. No, meno male che è un atteggio perché sono stato forzato. E anche io no. Siamo stati noi troppo bravi a essere aggressivi e non l'abbiamo fatti giocare. Sì, sì, all'inizio è vero. Non è che il demerito è vostro, forse il demerito è stato nostro. All'inizio è vero, forse dovremmo fare qualcosa in più. All'inizio è vero, è vero, è vero. Guarda ancora, fin del primo tempo. Dai, dai, insieme, insieme! Guarda, 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 guarda! Guarda, guarda, guarda! Guarda, guarda, guarda! Guarda! Guarda, alchimia, tu devi fare la linea, le scommet, non la cinque minuti alla fine. Va bene. Cosa dobbiamo fare allora? Allora, facciamo una scommessa negli ultimi cinque minuti. Se il risultato rimane così ti pago la pariettina. Se cambia me lo paghi tu. No, è al contrario la scommessa. No, cambia nel senso che può essere 5 a 1 o 6 a 0. C'è un gol. C'è un rischio. Sul gol, ecco. Esatto, no, esatto. Vuole scommettere, no? Mi dà l'X2 a me e lui prende ora. Eh, così a me già. Un gol ci potrebbe stare. Se vuoi fare la scommessa... Un gol, un gol, un gol, un gol, un gol. Francesco, che cazzo di pallone dai? Francesco, che cazzo? Che pallone dai? Franci, in orizzontale, quanto mai? Un gol, un gol, un gol, un gol. Eh, ha capito? Eh, no, allora spazzala, non fare passaggio in orizzontale. Non fare passaggio in orizzontale. Ma non è male, guarda che non è male. Ci può stare. In seconda categoria ci sta. Ha giocato in eccellenza in promozione. Esatto, ma lei è male. Non è male. Non è male. Non è male. Tre minuti. Perché accendono le luci? Cin minuti. Come sei giù? Sì, cinque minuti. Sì, cinque minuti. Sì, cinque minuti. Non è qua, non sperava un minuto. È cercato di intortare. Dichiarando che mancava poco. Ha più, da dove è arrivato. Non è male. La squadra è un'estima. Da. Torno, da quando la squadra. Il colo. Orco cane. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Viene dietro, Andre. Marco, Marco. Ehi, scusa, bravo. Ok, un gol al secondo. Un gol al secondo. Questo è 10. Voleva fargli prendere la munizione e li ha tirato sotto la mano. Che veloci queste cose! Mi spami il fitto di perra. Guarda, guarda, guarda! Come rifiuto di perra? Quale quintella? Ma dubbiamo che tu play off? Non tocchiamo bene. Se ci ribandiamo riesce a non andare più in alto. Eh, troppo forte, ragazzi. 2-0. 2-0. 3-0. 3-1. 3-1. 3-1. Ma fischia la fine! Ma fischia subito, dai, che sono fredda! Non c'è bene. Riva! Riva! Tanto le mani di potere Si riuscite, Ci riuscite a metter forza. Questo mi pare più bene. Baiole! Si. Di scala bravo. Buona, buona, buona! Bravo, bravo, bravo! Era giusto, era giusto, era giusto. Fede. Sì, Gisca. Vai Bobbe! Guardiamo un momento che imponiamo. Gisca! 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 Vai! Che imbarcata! Questo è il sesto, ve lo dico io. Filoni no. Giacodini imbarcata. Sono ancora più fatti da Bucadoretto. Questo qua è il sesto gol. Poi di fare questa punizione è fisca. Sì, è il sesto gol. Se si attira bene, è il sesto gol. Sì. Vai a cagare.